da Ortona perché da ieri si è ampliata l'emergenza abitativa che è scaturita dall'episodio di qualche settimana fa quando sono esplosi dei pilastri in due palazzine Ater nel quartiere Fonte Grande. Gli ultimi rilevi hanno attestato che anche le altre palazzine dello stesso gruppo di abitazioni sono a rischio. Il sindaco ieri ha emanato una nuova ordinanza di sgombero stavolta che riguarda molte più famiglie. Di questo parliamo proprio in diretta da Ortona con la nostra Antonella Micolitti e proprio vedo quel sindaco vicino a lei, Leo Castiglione. Allora Antonella intanto dove ti trovi e com'è la situazione? Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori della Tg8, sì c'è il sole, siamo all'agriturismo marina ma non certo per vacanze perché qui grazie al comune sono ospitate le otto famiglie di cui hai parlato tu prima che sono state sgomberate dall'edificio a rischio dopo il cedimento di due pilastri quella notte del 6 ottobre quando il sindaco e il comune sono intervenuti immediatamente per sgomberare gli inquilini. Poi ascolteremo anche qualcuno di essi e come dire sindaco i guai non vengono mai da soli perché diciamo che si tratta di edilizia residenziale dunque di palazzine Ater. Ieri lei ha emesso un'altra ordinanza di sgombero per altre due palazzine, 16 famiglie all'incirca mi diceva prima 40 persone perché? Perché lunedì ho ricevuto una richiesta del presidente dell'Ater di emanare un'ordinanza di sgombero per effettuare delle verifiche sulle palazzine gemelle di quella interessata al cedimento e quindi ho emanato questa ordinanza che non è un'ordinanza di immediata interdizione ma è un'ordinanza di interdizione appunto per effettuare questi controlli e essendo carente di documentazione sui controlli fatti negli anni precedenti la società incaricata dall'Ater appunto di fare queste verifiche ha ritenuto non sicure le due palazzine gemelle e pertanto è necessario effettuare queste verifiche con le palazzine logicamente disabitate. Ecco quindi diciamo che al momento i residenti sono dentro, non sanno quando dovranno uscire, non sanno quando dovranno tornare e se potranno rientrare nelle palazzine Ater, ma l'Ater cosa vi ha detto in sostanza sindaco? Sono in attesa appunto di ricevere notizie dall'Ater, so che questa mattina c'è stato un summit, una riunione, sono in attesa appunto di avere notizie e noi saremo sempre disponibili come abbiamo già fatto anche per la sistemazione degli appartamenti che entro sabato riconsegneremo in parte agli attuali inquilini che sono stati sfollati dalla palazzina diciamo interessata dal cedimento, quindi siamo in attesa di ricevere notizie perché non sappiamo altro al momento. Diciamo Carmine che per dovere di cronaca il presidente dell'Ater di Chieti Tavani e tre tecnici sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto. Certo molti di questi residenti ci dicono abbiamo dovuto lasciare a malincuare le nostre abitazioni, loro andranno in abitazioni diverse, invece gli altri residenti di cui parlavamo prima delle due palazzine Ater sono sospesi perché non sanno quale sarà il loro futuro. Sindaco, ma aspetta l'Ater trovare poi degli edifici sostitutivi per essi? Certamente, parliamo di proprietà dell'Ater, così come ho specificato nella mia ordinanza adesso per quanto riguarda la sistemazione degli inquilini che sarà una sistemazione speriamo temporanea perché poi dipenderà tutto dall'esito delle verifiche, dipenderà dall'Ater. Noi abbiamo provveduto nell'immediatezza dell'emergenza per quanto riguarda la prima palazzina a sistemare e a collarci le spese appunto per l'alloggio, vitto e alloggio delle otto famiglie ma adesso la competenza passa all'Ater per quanto riguarda le altre due palazzine perché ripeto parliamo di un'evacuazione che deve essere fatta per effettuare dei controlli. Carmine, velocemente stiamo parlando naturalmente delle palazzine numero 23 e 25, queste nuove e la vecchia invece a 27 in piazza 28 Dicembre, zona Fonte Grandi. Allora due residenti, Sindaco, lei resti vicino a me, voi eravate nella palazzina a rischio crollo, siete stati svegliati nella notte ma voi avevate già segnalato delle problematicità all'Ater? Avevamo, sì, l'avevamo segnata da molto tempo però nessuno si era fatto avanti. L'unica persona che proprio ci ha dato una mano nel momento che si è è il signor Sindaco e più lo staff del Comune. Lei mi ha detto prima una cosa che mi fa male è che ho lasciato lì dentro tutto. Tutto, abbiamo lasciato tutto, non abbiamo preso niente, neanche uno spillo. ci stanno tanti ricordi e tante cose che interessano e che non possiamo prendere niente, nessuno, non possiamo fare niente. L'Ater cosa vi ha detto? Niente, noi fino a questo momento non abbiamo visto nessuno dell'Ater, niente, proprio zero. Non sono venuti a chiederci niente come stiamo, di che cosa abbiamo bisogno, proprio zero. Da quanto tempo abitava lì? Io 29 anni. Una vita? Sì, ho tutti i ricordi lì. Carmine, non so se dallo studio hai qualche domanda per i nostri ospiti. No, grazie Antonella, naturalmente seguiamo la notizia, attendiamo anche l'esito di questa riunione importante, ci aggiorniamo per l'edizione delle 19.25 e anche per lo speciale, questa sera alle ore 20.05. Grazie, buon lavoro e naturalmente in bocca al lupo a tutti, agli inquilini evacuati, anche al sindaco che ha questa grana da risolvere insieme all'Ater di Chieti.